Giacomo Gilardi, 35 anni, laureato in scienze politiche e candidato sindaco a Vosisio Parini con la lista Vosisio Viva. Lei è stato segretario di Giovani Democratici, era all'opposizione in questi cinque anni, ora si candida a guidare il suo paese. Ecco, dove è nata questa decisione? Anche perché precedentemente si era già candidato, mi sembra, altre due volte. Sì, la decisione è nata sicuramente da una forte passione che mi ha sempre coinvolto, l'idea, come ha detto lei, anche la mia presenza e il mio impegno come segretario di Giovani Democratici a livello provinciale che ho fatto nell'esperienza universitaria, quindi quando, di fatto ormai 15 anni fa. Sono state esperienze importanti, l'amore per il paese e l'impegno anche per il paese a livello associativo da parte mia c'è sempre stato, da lì è nata anche l'idea di impegnarsi a livello politico, proprio per riuscire anche ad incidere rispetto a quelli che riteniamo essere i maggiori problemi, anche le prospettive da poter dare a Bosisio. Da qui l'impegno di candidarsi una prima volta nel 2014, una seconda volta nel 2019, quando siamo stati sconfitti per soli sei voti e sulla scorta anche di questa sconfitta di misura, dopo questi cinque anni mi è stata ancora richiesta la disponibilità da parte del mio gruppo a metterci nuovamente l'impegno e quindi da qui eccoci e ci siamo. Bosisio Viva, quali sono gli obiettivi della sua campagna elettorale? Noi pensiamo che bisogna principalmente partire da un metodo differente rispetto a quello utilizzato in questi anni, è un metodo che deve contemplare informazione e partecipazione della cittadinanza, riteniamo che sia utile avere una cittadinanza che sia quanto più informata, a 360 gradi e a tutti i livelli, non bastano solo le campagne social ma serve dal nostro punto di vista anche un'informazione capillare che sia efficace per tutte le fasce d'età. A questo vogliamo associare anche delle assemblee pubbliche, partecipare con la gente e discutere insieme i progetti e le prospettive che vogliamo dare a questo paese. Si possono già conoscere i nomi? Abbiamo chiuso la lista, ieri abbiamo fatto le foto, presenteremo i candidati ai cittadini sabato con un gazebo, sabato 4 maggio in piazza Parini, in cui sarà possibile anche per i cittadini che vorranno venire, conoscere i candidati e sottoscrivere la nostra lista per le prossime elezioni. Questo è il paese di Giuseppe Parini e appunto si porta il suo nome, ma anche il paese di Appiani, di Andrea Appiani. Ecco due personaggi, un poeta e un artista che rendono lustro a questo vostro paese. Ecco, cosa farete come lista per valorizzare questi due concittadini, pensando che fra cinque anni ricorrono i 300 anni della nascita di Giuseppe Parini? Sì, questi due cittadini illustri, che tra l'altro uno dà i nomi di fatto al nostro paese e Andrea Appiani dal nome a una via storica che è quella che passa proprio qui davanti al lago. Appiani è stato il primo pittore di Napoleone, poi ha fondato la Pinacoteca Brera anche. Sì, sono due figure illustri che a malincuore sono state un po' abbandonate. Se voi adesso passate a Casa Parini spesso il museo è chiuso, è stato oggetto di una riqualificazione e di un ammodernamento negli ultimi anni, ma manca sicuramente un piano di fruizione turistica e culturale e anche la forza di far sì che queste due figure vengano quanto mai valorizzate. Lo vogliamo fare per i nostri cittadini, lo vogliamo fare per il nostro territorio e riteniamo che possano essere anche un volano turistico molto molto importante. Serve però una massima concentrazione, la conoscenza, la passione e anche l'idea di far innamorare sempre di più i cittadini di Bosisio e di questi suoi due concittadini che hanno dato sicuramente l'uso al nostro paese. Parini era innamorato, per usare il termine anche suo, di questo paese di Bosisio. Ha scritto una ode in cui celebra la bellezza di questo suo paese e celebra anche la bellezza del vago Eupili, il lago qui dietro di noi. Cosa farete per valorizzare e difendere questa ricchezza? Sì, sicuramente Parini diventa una figura quanto mai attuale, sicuramente i giorni nostri, proprio per questa capacità che ebbe già l'ora di alzare l'attenzione verso quelle che è l'ambiente che ci circonda e verso l'attenzione che noi dobbiamo avere verso questo patrimonio. Se pensiamo che in questa ode dice che Milano è inquinata 300 anni fa e mentre qui a Bosisio si respira un'aria salubre, per usare anche l'aggettivo suo. Sì, Parini proprio nella sua ode fa proprio questo contrasto tra la salubrità dell'aria del nostro territorio, della Brianza, rispetto a quella di Milano. È una salubrità che purtroppo negli anni si è andata qui, nel senso che sicuramente lo sviluppo industriale, l'innovazione ha portato a far sì che ci fossero anche sempre più elementi inquinanti. Questo lago fu inquinato e, almeno nella mia giovinezza, è stato impossibile per me fare il bagno, cosa che negli ultimi anni invece siamo riusciti a riconquistare. Sicuramente le scelte ambientali, le scelte di preservazione, l'attenzione all'ambiente e questo riguarda sia i piccoli gesti quotidiani che ogni persona può fare, sia le scelte che l'amministrazione deve compiere. Abbiamo ancora sversamenti a lago di parte di fognature, dobbiamo tenere controllata sicuramente la qualità dell'aria per quanto riguarda anche le emissioni industriali e cercare di migliorare sempre più, avere un'attenzione verso il nostro territorio. Su chi investirete maggiormente nei prossimi cinque anni se sarete eletti? Sui giovani, sugli anziani, sul lavoro? Noi riteniamo che sicuramente la parte sociale debba avere una priorità, oltre al tema della scuola che sicuramente è preminente rispetto a quello che è il nostro programma. Quando parliamo di sociale non parliamo di una categoria specifica, non parliamo solamente di anziani e di giovani. Pensiamo che il Paese vada unito. In questo senso noi proprio qui di fronte a questa piazza abbiamo Casa Francesco, uno stabile comunale su cui abbiamo, come Bosiso Viva, il progetto di realizzare qui un centro di aggregazione, un centro di aggregazione per gli anziani, un centro di aggregazione per i giovani, una casa delle associazioni, oltre anche a uno spazio per le feste. Riteniamo che questo spazio, proprio questa piazza, debba diventare il fulcro sociale del Paese. Servirà un'attenzione quindi sì alla parte aggregativa, ma anche a quelli che sono tutti i bisogni che le diverse fasce della popolazione hanno. Quindi i giovani con un'attenzione anche a livello lavorativo e di introduzione al mondo del lavoro e gli anziani per quanto riguarda tutto il supporto legato alle loro necessità. L'esigenza di avere dei medici reperibili e ancora in Paese, l'esigenza di avere magari degli aiuti sui trasporti e l'esigenza di essere comunque informati, tutelati e di avere qualcuno che in comune li ascolti. Sì, a Bosiso c'è il lago, ma c'è anche una grossa industria, una grossa multinazionale, la Roda Ciai. Che Bosiso sarà in futuro? Una Bosiso turistica, una Bosiso culturale o anche industriale? Sicuramente nella storia dei nostri Paesi c'è preeminente una vocazione lavorativa, una vocazione industriale. Questo fa parte, come dicevo, della nostra storia ed è sicuramente una politica che non potremo mai abbandonare. È quello che ci ha dato lustro, è quello che ci ha dato crescita e quello che ci ha dato anche patrimonio e ricchezza. Sicuramente una collaborazione con la classe industriale, con i commercianti, con chi fa e dà lavoro è quanto mai necessaria. Riteniamo che sia fondamentale che le istituzioni iniziano ad aprire anche con certe realtà un dialogo per dare prospettive lavorative, per fare conoscere e per integrare sempre di più queste realtà industriali. Ad esempio lei ha citato la Roda, una realtà fondamentale, importantissima, ma che è spesso un po' slegata dal Paese, se pensiamo a sponsorizzazioni, ad eventi, ad altre collaborazioni che secondo me sarebbero... E' un po' ai margini. E' un po' ai margini dal nostro punto di vista. Sicuramente esaurare un dialogo, un confronto proficuo rispetto anche a capire quelle che sono le esigenze per favorire uno sviluppo sempre più proficuo e sempre più sostenibile. Oltre alla parte lavorativa sicuramente non può venire meno l'imboccare quella via che ci porta verso un turismo consapevole e culturale. Come abbiamo detto prima noi abbiamo la figura del Parini, una figura che va incentivata, va incentivato un turismo sostenibile, un turismo di prossimità, un turismo che porti la gente ad apprezzare le bellezze di questo Paese e in automatico che possa essere anche un volano di ricchezza. Bene, tanti auguri a loro. Grazie.